Il Vangelo della Domenica Commento a cura di Don Fabio Rosini Rintunesima Domenica del Tempo Ordinario Ascoltiamo la proclamazione del primo e il più grande di tutti i comandamenti Vediamo un pochino come accade questo dialogo fra Gesù e questo scriba Dobbiamo sapere che questo testo si colloca all'interno di una serie di polemiche Questo è il capitolo dodicesimo del Vangelo di Marco È l'ultimo capitolo della vita pubblica di Gesù Ciò che seguirà sarà un fattarello piccolo ma di una grande importanza Il momento dell'obolo della vedova Poi Gesù partirà per un grande discorso sulla fine di Gerusalemme Sulla fine del tempo, sulla fine delle cose Che è il capitolo tredicesimo E quindi inizierà il racconto della passione con il capitolo quattordicesimo In questo testo noi abbiamo una delle diatribe Dove Gesù si scontra con sadducei, farisei, scribi vari Infatti terminerà dicendo Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti Avere i primi seggi Divorano le case delle vedove E pregano a lungo per farsi vedere Riceveranno una condanna più severa Ecco, questo sarà l'esito di queste diatribe Ma uno di questi dialoghi andrà bene Uno di questi che lo mettono alla prova È proprio questo scriba Che vediamo in questo testo della domenica trentunesima dell'anno B Si avvicina a lui e gli domanda Qual è il primo di tutti i comandamenti? È una prova Lo sta mettendo alla prova Ma è una prova classica Si narra che un grande rabbi Rabbi Hillel Venisse messo alla prova Per saper dire tutta la scrittura in piedi su un solo piede Sollevò una gamba da terra e disse Ascolta Israele Il Signore è il nostro Dio Il Signore è uno solo Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, la mente e le forze Poi riappoggia il piede E questo era il comando Dice tutto Supera la prova Perché questo contiene tutto E parla dell'ascolto Cioè della relazione autentica con Dio Che passa per le orecchie molto più che per gli occhi E parla dell'amore a Dio E della globalità dell'uomo Che è fatto di cuore Animamente, forse Tutto quello che lui è Normalmente è una tripartizione In questo testo di Marco C'è uno sduppiamento fra anima e mente Ma c'è il cuore L'anima, la mente Che sono termini che in questo caso In questo frangente Sono abbastanza analoghi E tutta la forza Le tre dimensioni dell'essere Ovvero sia Ciò che abbiamo nella dimensione del cuore interiore Ciò che abbiamo nella dimensione razionale della mente E ciò che sono le nostre opere, le forze Che sono le dimensioni dell'uomo essenziali Cioè la sua dimensione affettiva La sua dimensione razionale La sua dimensione operativa Allora, amare il Signore con tutto questo È la nostra relazione con Dio Parte dall'ascolto Parte dal essere oggetto di una parola E quindi implica un rapporto che tocca tutto Non è che si ascolta Dio capendolo E questo basti Non è che si capisca Dio percependolo nel profondo E questo basti Se tutto questo non si traduce in opere In forze In esercizio pratico Tutto questo è falso Ma non è che io posso fare le opere Senza comprendere e accogliere nel profondo Ciò che sto facendo Perché posso anche fare atti Che sono di per sé oggettivamente buoni Ma non essere coinvolto profondamente Così succede tante volte Anche in certi servizi che si possono fare Allora c'è una globalità Lo scriba, interroga Gesù E Gesù volentieri risponde Cosa piuttosto rara Perché in genere Gesù è piuttosto difficile In queste diatribe Risponde a domande con le domande E mette molto in difficoltà I suoi interlocutori Invece questa volta accoglie la domanda Perché è secca, è semplice Il primo è Ascolta Israele Il Signore nostro Dio è l'unico Signore Amerà il Signore O Dio con tutto il cuore Tutta l'anima Tutta la mente Tutta la forza Ma Gesù aggiunge qualcosa Che non gli è stato chiesto Gli era stato chiesto di parlare del primo E lui aggiunge il secondo E però dirà che è simile E il secondo è questo Amerai il prossimo tuo come te stesso Non c'è altro comandamento più grande di questi Questo altro comandamento Perché lo esplicita Gesù? Perché gli è stato chiesto Qual è il primo di tutti i comandamenti Bene, il primo non lo capisci Se non capisci il secondo Se ti dico solo il primo Tu potresti correre il rischio Di prenderti le due tavole Dei dieci comandamenti Di tenertene solamente una Tutta la seconda tavola Che riguarda la relazione con il prossimo Non la consideri Possiamo pensare noi Che esista una fede Fatta solamente di devozione Di rapporto verticale Senza alcuna orizzontalità Sì, succede molto spesso purtroppo Non è così infrequente E possiamo anche pensare il contrario Come accennavamo già A riguardo della integrità dell'uomo Della integralità del rapporto con Dio Che si pratichi una fede solamente orizzontale Dove c'è solamente la prassi E non c'è la relazione con Dio Dove si veda solamente L'emergenza immediata E non si veda l'invisibile E non si veda il profondo delle cose Queste due dimensioni Sono coessenziali E non si può fare una senza l'altra Perché di fatto Per poter amare Dio Dobbiamo amare il prossimo Non si riuscirà mai Ad amare Dio Senza amare il prossimo Se ami Dio E non ami il prossimo Tu non ami Dio L'idea di avere una vita di orazione perfetta E un cuore pieno di rabbia verso qualcuno Non funziona L'idea di vivere in una comunità religiosa Dove si fanno tutti gli atti di servizio Al momento giusto E dove si fanno tutti gli atti liturgici Al momento giusto Ma non parlare fra sorelle Non parlare fra fratelli E stare in una grande accredine reciproca Cosa non impossibile È un obrobrio Questo è un sacrilegio È rendere vano tutto Noi non possiamo scindere questi due comandi Noi abbiamo ipotizzato l'idea settoriale Di occuparci solamente di cose facili da fare Spesso è molto più facile fare qualcosa per qualcuno Che volergli bene Fare qualcosa per qualcuno Piuttosto che stare ad ascoltarlo O cedere a un suo argomento Molto spesso Voler bene a una persona Vuol dire andare molto oltre L'atto di muovere le mani in suo favore Vuol dire anche accoglierla nel cuore Ascoltarla con la mente Così Dio non può essere solo compreso E Dio non può essere solo servito Dio va servito e compreso Questo però è una questione che è collegata Alla prima cosa che dice Gesù Ascolta Israele Il Signore nostro Dio è l'unico Signore In ebraico Adonai Yechad Dio è uno Dio è il primo Dio è uno Dio è unico Dio è unità Dio è integrità Dio non è scessione Dio non è confusione Dio non è contraddizione In Lui non c'è disordine Dice San Paolo Ma in Lui c'è ordine In Lui c'è armonia In Lui c'è l'armonia Che noi abbiamo fra di noi Quando siamo sinergici Quando collaboriamo Quando siamo sinodali Come è ben dire di questi tempi Quando noi camminiamo insieme Allora siamo secondo il Dio unico Perché camminiamo verso l'unione Non la conformità Non l'uniformità L'unione dei diversi Infatti l'uomo è fatto di tante parti Il cuore, la mente, le forze Ma è uno solo E ama un Dio solo E unificare il cuore, la mente, le forze Nella relazione con Dio E unificare la relazione con Dio Nella relazione con il prossimo Questo è fare un lavoro Essenziale nella nostra vita spirituale Quella della unificazione Della semplificazione Ma Gesù dice una cosa a questo scriba Perché questo scriba dice Hai detto bene maestro E sarà l'unico che gli dà ragione Infatti questo è un dialogo morbido Fra loro due È l'unico Delle diatribe che vediamo In questo capitolo dodicesimo di Marco È l'unico dialogo morbido Hai detto bene Secondo verità Egli è unico Non vi altri all'infuori di lui Amarlo con tutto il cuore L'intelligenza e la forza Amare il prossimo come se stessi Vale più di tutti gli olocausti E i sacrifici Dice una cosa molto bella Questo scriba Gesù aggiunge Un'ultima zampata Non sei lontano dal regno di Dio Non gli dice che è nel regno di Dio Che non è lontano C'è un passetto ulteriore da fare Questa cosa se non la fai Non entri nel regno di Dio Puoi aver compreso tutto questo Ma c'è da entrare nel regno di Dio Il regno di Dio è Cristo stesso Queste cose non si fanno come una tecnica Si fanno come una cosa che non è lontana Una relazione E' il Signore che ci chiede di fidarci di Lui Che ci chiede di entrare nel suo regno Di lasciarci portare alla sua vita Che è quella che descrive questo primo comando Avete ascoltato il commento al Vangelo di questa domenica Offerto da Don Fabio Rosini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti